Penna in mano e caccia agli autografi l'attesa ad Osimo prima della partenza della sesta tappa della Tirreno Adriatico. Il ciclismo sport senza tempo che appassiona tutte le età, dai piccolissimi in prima fila per conoscere i grandi campioni, a chi invece con i successi dei ciclisti ci è cresciuto e tra una pedalata e un'altra aspetta di conoscere il vincitore di questa tappa tutta osimana. Da 14 anni è ancora in bicicletta, ho già detto tutto, c'è una passione che li seguo, li seguo dappertutto. Io sto vedendo tutte le corse delle biciclette, il resto non mi interessa niente. Adesso seguiamo il ciclismo e ne approfittiamo e qua in Osimo cerchiamo autografi. Anche molti bambini ci sono. Sì, infatti vedi qua stanno tutti quanti delle classi di Filottrano e di Castelfidardo. Siamo appassionati e veniamo dall'Abruzzo, abbiamo seguito quasi tutte le tappe. L'atmosfera tra bandierine colorate e striscioni non lascia niente al caso. La sfilata sul palco pre-partenza delle stelle della bici, fra i flash dei fotografi e le urla dei tifosi. Arrivano da tutto il mondo e fanno tappa qui, una regione con un territorio che si presta a mettere alla prova gli atleti, un territorio che accoglie lo sport, Osimo, città del ciclismo. È un orgoglio ospitare oggi la Tirina Adriatica che parte da Osimo Stazione e arriva a Osimo Centro con un circuito meraviglioso e Nibali l'ha definita la tapa perché oggi non solo il vincitore sarà uno dei più grandi campioni che abbiamo nel circuito internazionale, ma sarà probabilmente colui che metterà la maglia blu e vincerà la Tirina Adriatica. Dopo il via da Osimo Stazione, il percorso fino alla linea di arrivo, affrontando i continui sali e scendi di Recanati, Santa Maria del Monte, Macerata, Treia, Montefano fino all'arrivo. Un circuito complesso caratterizzato da un sali e scendi che ha messo a dura prova i ciclisti. A trionfare e a tagliare il traguardo Primoz Rojlik, lo sloveno che fa così tripletta di vittorie. Finisce la corsa ma non l'attesa il gran finale a San Benedetto del Tronto nella corsa dei due mari.